A lei piace Visco? Enzo Visco è un carissimo amico, ci conosciamo da una vita, quindi lavoravo con lui quando ero io consigliere economico a Palazzo Chigi 15 anni fa. Quindi avete delle idee comuni sulla lotta all'evasione fiscale? A volte abbiamo idee comuni, a volte no su altri argomenti. Su questa questione sintetizzata nel documento importante che ho letto, direi che condivido pienamente l'approccio, che sarebbe questo, la lotta all'evasione non si batte con i blitz, si batte con la costruzione costante e meticolosa di un rapporto di fiducia con i cittadini, il quale a sua volta richiede trasparenza nelle regole, semplicità e chiarezza. È un lavoro che si può fare, ma anche rapidamente, perché i vantaggi in termini di evasione si vedono. Adesso non so se i numeri di Visco saranno quelli che sono effettivamente giusti, ma la direzione è esattamente la stessa.